Ehi ragazzi, che vi serve? Sì, avete più o meno un budget che si può orientarvi. Ma vorremmo un prodotto di qualità, un buon rapporto qualità-prezzo. Allora, questo è il prodotto che fa il caso vostro. E' un vino direttamente proveniente dai vigneti di Marsala, ottimo rapporto qualità-prezzo. E' un piatto maraccio, posso assaggiare? Rallo, dal 1860 diamo calore ai vostri momenti più belli.